Telefonate alcuni giorni, anche decine, poi continui tentativi morbosi di avvicinamento anche all'università, al punto che era stato necessario rendersi irreperibile per un lungo periodo, cambiando addirittura numero di telefono e d'alloggio. Questo è il racconto dell'ex fidanzatino di Martina Rossi, la giovane studentessa ligure precipitata nell'agosto 2011 dal sesto piano di un'hotel alle Baleari, per l'accusa cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro, un gesto volontario invece secondo i due imputati, Luca ed Alessandro, due giovani di Castiglion Fibuocchi accusati di morte in conseguenza ad un altro reato. Il fidanzatino di Martina oggi trentenne è stato chiamato a deporre dalla difesa di Luca rappresentato in aula dall'avvocato Stefano Buricchi che ha citato in tutto 25 testimoni. Tre primi a prendere parola appunto il giovane con il quale la studentessa aveva vissuto una storia d'amore per lei particolarmente difficile da dimenticare. Il ragazzo ha parlato di un periodo difficile per entrambi, due anni di anze iniziate dopo la fine della relazione, conclusosi solamente nel 2009, anni in cui a tratti si è sentito sotto assedio per le eccessive attenzioni che Martina gli avrebbe riservato. Sono stati poi ascoltati gli amici degli imputati, tutti li hanno descritti come bravi ragazzi aggiungendo di non aver mai visto da parte loro atteggiamenti minacciosi o tanto meno violenti. Persone normali che non hanno mai dato a vedere problemi di alcun genere, aggiunto poi il parroco di Castiglion Fibuocchi, Don Adriano Ralli. Ascoltato infine anche il fratello di Luca, Marco, che non ha mai creduto alla ricostruzione della pubblica accusa. Assenti invece l'unica testimone oculare, la cameriera Franziska Puga è la direttrice dell'hotel dove i ragazzi alloggiavano quell'agosto 2011. Per questi testi è possibile che si arrivi alla richiesta di un'arrogatoria internazionale, come è avvenuto per i testimoni danesi ascoltati in videoconferenza nel Tribunale di Perugia.